Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube Oggi vi porto un tutorial Un tutorial che qualcuno di voi magari aveva già visto per un nanosecondo Perché era apparso sul canale e poi si è autodistrutto E poi per problemi, insomma, non sono più riuscito a farlo uscire quando doveva E quindi eccoci qua con il tutorial del dragback Una skill che è andata un po' dimenticata quest'anno rispetto all'anno scorso Che invece era una delle skill principe Per poter superare la difesa avversaria Soprattutto in area di rigore con l'ultimo passo per poi andare a calciare Ma che secondo me dopo la patch è tornata ad essere molto molto utile Quindi vi andiamo a vedere in arena qual è, diciamo, il modo per poter fare questa skill Magari anche qualche piccolo segreto per poterla performare al meglio Quindi arrivate fino a fine video perché lo nascondo a fine video questo segreto E niente, e poi passiamo invece su schermo APC dove ho delle clip di partite Dove, insomma, vi faccio vedere effettivamente l'utilità della skill stessa Quindi senza perdere ulteriormente tempo Passiamo subito in arena dove ci attende il buon Cristiano Ronaldo Pronto a farci vedere come fare questa skill Come per quanto accadeva per il tunnel dove i tasti che dovevamo andare a utilizzare Erano a seconda, ovviamente, a seconda della configurazione pad che avete L1 più il tasto del tiro a giro In questo caso è esattamente identico O quindi andrete a schiacciare nel mio caso L1 ed R2 Nel vostro caso L1 ed R1 Insomma, L1 più il tasto del tiro di precisione Però se per il tunnel era L1 più R1 in avanti Vedete per fare il tunnel come vi avevo mostrato Per quanto riguarda invece il drag back Si tratta di una skill di uscita Nel senso che è composta da due movimenti Al termine del secondo ci sarà anche un leggero boost di velocità Quindi, come si performa il drag back? Il primo movimento che dovete fare dopo aver schiacciato L1 più R1 bar R2 È quello di andare all'indietro E poi scegliere la direzione di uscita Che se siete posti col corpo, in questo caso, può essere indietro Quindi, semplicemente, un drag back che va all'indietro Può andare a sinistra, come in questo caso Può andare a destra, come in questo caso Ma può anche andare in avanti Io questo lo chiamo fake drag back ed è anche molto molto utile Quindi, diciamo, semplicissimo per quanto riguarda l'applicazione del movimento Come potete vedere, quindi A seconda delle posizioni L'importante è che il primo movimento sia sempre quello che va dietro al giocatore Quindi, se siamo qua, ad esempio Movimento verso sinistra E poi, per dirvi che so, verso destra Eccetera, eccetera Però, il movimento base è quello che parte sempre da dietro al giocatore Detto ciò, oltre al drag back C'è anche quello che io chiamo mezzo drag back Che vi permette di poter andare a guadagnare tanto spazio Quindi, se abbiamo visto prima movimento e contromovimento per uscire In questo caso c'è solo accompagnamento Quindi movimento all'indietro E lasciare senza la direzione di uscita Eccolo qua Questo è quello che io chiamo fake drag back E che è molto utile Perché, ad esempio, potete fare Fake drag back più R3 Per fare questa skill che alza la palla all'improvviso Sorprendendo l'avversario Oppure, un'altra utilità del mezzo drag back È quella di andarlo a concatenare con altre skill Ad esempio, quella che io amo in assoluto È il fake drag back più elastico Guardate la rapidità dell'elastico dopo il fake drag back Questa, penso, sia veramente una delle migliori Oltre che c'è anche la possibilità di fare Mezzo drag back più crocchetta La possibilità di fare mezzo drag back più reverse elastico La possibilità di fare mezzo drag back più veronica Eccetera eccetera Quello che però, vi ripeto, io prediligo È il fake mezzo drag back più l'elastico Penso sia la concatenazione migliore che potete andare a fare Detto ciò, io dopo avervi mostrato, diciamo Come andare effettivamente a fare il drag back Passerei sullo schermo dove andrei a vedere Le clip che ho salvato Prima di fare ciò Vado un attimino ad attivare la solita lavagnetta Tecnico-tattica in maniera tale che vi evidenzio le situazioni Ed eccoci qua pronti Come potete vedere, prima situazione Io mi trovo all'interno dell'area di rigore con Mané Scarico poi palla verso Deulofeu Mané la recupera In questo momento, dopo aver fatto la skill di finta di tiro con Neymar Guardate qua, io già ho potenzialmente un angolo di tiro per andare ad aggredire il primo palo Però di cosa ho paura? Ho paura di un eventuale autoblock incredibile di Adama Che non è così lontano E poi ho paura del fatto che il portiere comunque è messo discretamente bene E Neymar non ha questa gran potenza tiro Quindi, che cosa faccio in questo caso? Vado a utilizzare il drag back Vedete, in questo caso io mi ritrovo il difensore al mio esterno E il mio obiettivo è quello di tagliargli all'interno Quindi, guardate qui Io vado esattamente a fare questo movimento Lo mando totalmente fuori i giri E converrete con me che in questo caso adesso il goal è praticamente cosa scritta Perché Neymar, posto così, ha tutto il secondo palo libero e può andare a insaccare Cosa che effettivamente poi andrà ad accadere Eccolo qua Quindi diciamo che questa è proprio una delle situazioni principe per quanto riguarda il drag Bec, ossia andare in una direzione, soprattutto in zona obliqua Con difensore posto all'esterno E questo movimento Che parte da qui e arriva da quest'altro lato A cambiare immediatamente direzione Quindi questa è una cosa che ovviamente è molto molto utile Soprattutto quando avete giocatori con 5 di piede debole Che vi dà la possibilità di poter calciare in maniera improvvisa con entrambi i piedi Per quanto riguarda un'ulteriore situazione che possiamo andare immediatamente a vedere Vedete come ancora una volta al limite dell'aria Drag back e tiro a giro dalla distanza Questa è un'altra situazione molto interessante Perché il drag back performato da questa direzione qui Più o meno quindi che saranno un 25 metri Ok, quindi poco fuori la lunetta dell'area di rigore Se andate ad apparecchiare con il drag back la conclusione a giro Sul palo lungo con giocatori che ovviamente sono in grado di farlo Io ho notato un boost nella precisione delle conclusioni Quindi questo è anche un altro modo per poterlo utilizzare Perché vedete effettivamente io qui non è che avevo questo giocatore in marcatura Ho detto no Però io adesso faccio il drag back Dopo il drag back tiro immediatamente a giro perché ho proprio questo boost Vedete che il tiro non è neanche così irresistibile Non era rapido, potente eccetera Però ha preso una traiettoria che ha mandato al bar il portiere Qui guardate ancora una volta Qui praticamente ci sono tutte le situazioni di drag back racchiuse Che poi vanno a prendermi il calcio di rigore Allora qui io sto correndo Ok, quindi è la stessa situazione speculare a quella di Neymar Però dall'altro lato Ho il difensore al mio, in questo caso, interno E voglio andarmene all'esterno Quindi io sto andando in questo caso verso di qua Il movimento che voglio fare è esattamente da quest'altro lato Lo vado a performare E vedete come il giocatore va esattamente al bar su questa linea che vi ho disegnato In questo preciso momento poi lui va a switchare sul varan Mi viene sotto, io faccio un tacco-tacco E mi riporto un'altra volta in questa situazione Dove sono a contatto con il suo varan E voglio togliermelo Quindi voglio fare questo movimento Che mi porta poi magari qua in condizione per andare a calciare Ok? Mentre vado a eseguire il movimento del drag back Però mi accorgo che lui mi viene a raddoppiare Quindi piuttosto che uscire in questa direzione Me ne esco dritto per andare ad accumulare spazio E potermi rigirare Ok? Quindi in questo caso poi Ne faccio uno ulteriore Per andare a tagliare entrambi i giocatori Che vedete rimangono fuori E io mi vado a liberare tutto lo spazio Per un'eventuale conclusione Lui va totalmente a vuoto Recupera, mi falcia E commette falo da rigore Quindi questa è un'altra applicazione Molto molto importante Per quanto riguarda il drag back all'interno dell'area di rigore Qui invece vi porto un'ultima situazione Vedete ancora una volta Qui io sto correndo Verso quest'area di campo E paradossalmente Sono libero Magari avrei potuto anche Andare a fare un movimento di questo tipo Con una finta di tiro e calciare sul primo Avrei potuto Che so Fermarmi e fare la crocchetta verso lato A O lato B Invece no Scelgo di andare ad apparecchiare Il movimento del drag back Perché andando in questa direzione Vado poi a spostare immediatamente Palla verso di qua Andando ad aggredire il primo pallo Con Mané che sicuramente la butterà dentro Quindi esattamente Quello che accade Ok Quindi questo Per quanto riguarda Le migliori situazioni In game Nelle quali si può andare Ad applicare Il drag back Per i temerari Che sono arrivati Fin in fondo Voglio lasciarvi Con una chicca Che è quella Diciamo Che mi permetteva L'anno scorso Di essere uno dei più letali Col drag back Sebbene si aspettavano tutti Che io lo stessi per fare Non mi prendevano mai Perché io che cosa facevo Prendevo palla Ok Magari ero in area Il mio intento Era quello di Disorientare il difensore Quindi io cosa facevo Facevo un passo in più Anche se non era richiesto Nella direzione Verso la quale sto andando Ok Quindi controllavo il pallone Facevo questo passetto in più E poi facevo il drag back Perché sul primo controllo Andare in quella direzione opposta Manda già a vuoto il difensore E una volta che voi poi Andate a fare il drag back Lo mandate sempre fuori giri E vi ritrovavate Costantemente In posizione buona Per poter Per poter concludere Quindi sempre sul primo controllo Fare un passo nella direzione In cui andate E poi drag back In quella opposta Quindi chicca Perché è arrivato fine qua Raga Spero che per questo video Insomma Come al solito Vi sia piaciuto Lasciate un commento Fatemi sapere che ne pensate Vi ricordo di iscrivervi al canale Trovate in descrizione Tutte le info Sulla piattaforma viola Perché ormai ci siamo Dovremmo tornare a breve E per a breve interno domani Quindi Che Dio ce la mandi buona E annuda raga Io vi auguro una buona giornata Mi raccomando Fate bravi Ciao